Cristian Grisi, centrocampista dell'OS Scandale, un tuo golo stava per regalare la terza vittoria allo Scandale, poi è arrivato il rigore? Sì, peccato perché era la prima rete in questa stagione da centrocampista. Il rigore magari era un po' dubbio, però l'albitro ha deciso così e è andato a finire in pareggio. Come giudica quest'inizio di campionato per la sua squadra? Ma tre partite, due vittorie, un pareggio è un buon inizio, che sinceramente non ci aspettavamo. Sicuramente siamo una squadra competitiva, che lottiamo per la salvezza tranquilla, però abbiamo anche delle ambizioni per toglierci delle grandi soddisfazioni. Domenica prossima? Domenica prossima è una bella partita, ci aspetta una delle tante lotte come stiamo facendo in questo inizio di campionato. Andiamo fuori casa in un campo che non è il nostro. Speriamo di fare meglio di questa domenica che è stata anche un po' sfortunata. Grazie. Grazie a voi.